buonasera dolcissimi dolcissimi il scatolo stava alla rovescia va bene sono dato dai cinesi e ho comprato questa cosa qui poi lo conoscete sicuramente bene gli scatoli ho preso un'altra trozzola 1 euro e 50 poi sempre dai cinesi ho comprato sia sorbenti laurella ultralungo con mali li trovo benissimo poi per il mio patato giuglio ho preso questo affarino per i suoi dentini e più questa pallina sempre a giuglio quanto è carino poi ho preso altre cose che poi farò altri video vi volevo far vedere queste costine e noi ci vediamo al prossimo video baci baci buon feracosti a tutti ciao ciao ciao